Il Veneto rimarrà in zona arancione per un'altra settimana ancora, con tutte le restrizioni del caso. Si tratta con ogni probabilità di una situazione che non è destinata a ripetersi grazie ai dati relativi all'emergenza sanitaria che riguardano la nostra regione. La curva, come già affermato più volte negli ultimi giorni dal governatore Luca Zaia, è in discesa e gli indicatori confermano come l'osservanza delle prescrizioni previste da decreti e ordinanze stia dando risultati sperati. Qualche esempio, nell'ultimo giorno del 2020 c'erano in Veneto 91.450 persone positive al coronavirus che nelle scorse ore sono scese a 47.541, praticamente la metà. Se il 31 dicembre in 12 ore venivano registrati 2.059 nuovi positivi, ora questo numero si aggira attorno alle 500 unità, praticamente un quarto. L'anno scorso si è chiuso con 157.000 negativizzati, oggi siamo quasi a quota 250.000. Tutti i dati che disegnano un grafico in picchiata che va a braccetto con una curva ospedaliera in decisa flessione. Complessivamente si sono liberati quasi 800 posti letto, sia in area non critica sia in terapia intensiva. Le restrizioni restano quindi, ma con l'accelerazione della campagna vaccinale la situazione è destinata a migliorare. Lo conferma anche l'Istituto Superiore di Sanità. Ciò vuol dire che le misure di contenimento e restrizione hanno funzionato e che bisogna pertanto continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie.